Ciao ragazzi come va? Spero bene. Allora oggi vi voglio dimostrare parlando e con alcune immagini come prendere la partnership avendo pochi iscritti e poche visualizzazioni come nel mio caso. Allora come prima cosa dobbiamo cercare qualche network? Vi lascio i più famosi nella descrizione come Social Blade. Iniziamo. Prima di tutto dobbiamo vedere e possiamo prendere la partnership andando su socialblade.com e scrivendo il nostro nome avviamo la ricerca. Come nell'immagine se possiamo prendere la partnership ci uscire il bottone con scritto apply for partner. Lo avete? Ok ora compiliamo il modulo. Mettiamo. Nome cognome e mail data di nascita. Eccetera eccetera. Bene ora riceverete un e-mail ti conferma. Poi dopo qualche giorno lavorativo vi daranno la risposta se vi hanno accettati oppure no. Ricordo inoltre che è molto meglio avere più di 100 iscritti e almeno 5000 visualizzazioni. Questo video è finito. Ciao ragazzi al prossimo video.